Siamo a scuola. Abbiamo lezione. Questi sono gli studenti. Questa è l'insegnante. Questa è l'insegnante. Questa è la classe. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Nahnu nata'allam. Studiamo. Nahnu nata'allamu l'ugha. Impariamo una lingua. Impariamo una lingua. Io studio l'inglese. Io studio l'inglese. Anta' tata'allamu l'ispaniya. Tu studi lo spagnolo. Tu studi lo spagnolo. Lui studia il tedesco. Lui studia il tedesco. Antunna, tata'allamna l'italia. Voi studiate l'italiano. Voi studiate l'italiano. Hum yata'allamun. Hadratukum tata'allamun al-rusia. Loro studiano il russo. Loro studiano il russo. Ta'allumu l'ughaat. Che un mumta' Studiare una lingua è interessante. Studiare una lingua è interessante. Vogliamo capire l'agente. Vogliamo parlare con l'agente. Vogliamo parlare con l'agente.